Sono Manuela Pursumal, responsabile settore educazione del Centro Orientamento Educativo che insieme a Fondazione ISMU ha promosso questa prima edizione dell'Uniwi. L'idea è quella di riuscire a far capire ai ragazzi che un film è un'arte, una comunicazione che è godibile, che è fruibile in maniera piacevole, che attraverso un film possiamo imparare tante cose ma che in sala scambiandoci i vari giudizi è possibile stare ben insieme tutti quanti. Stamattina abbiamo proposto alle scuole medie il film di animazione brasiliana Tito and Bers. Abbiamo chiesto a due docenti abbastanza consolidati nel loro ruolo di presentare loro i film alle classi presenti e poi di animare il dibattito dopo. Grazie per la visione!